Buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione e oggi parleremo di cosa fa l'ipnosi e le altre tecniche dalla meditazione, allo yoga, alla PNL, ad altre tecniche di crescita personale per finire anche a delle tecniche molto più lente anche se efficaci come le tecniche freudiane eccetera eccetera Quali sono le differenze più importanti? Beh io per farmi spiegare, per spiegarmi e per farti capire subito dal volo voglio farti l'esempio della Cina Dici che cosa c'entra la Cina adesso in questo discorso dell'ipnosi? Beh la Cina e i cinesi c'entrano moltissimo I cinesi e la natura aggiungo, ok? Ti faccio un esempio La natura per creare una spiaggia fatta di tantissima sabbia fine Granelli, miliardi e miliardi di granelli Mette secoli e seculorum Per far sgretolare la roccia e trasformarla in sabbia, ok? In granito eccetera eccetera Poi sabbia bianca, dorata, scura eccetera eccetera Questo è un altro discorso Una scogliera in una spiaggia Dalla sera alla mattina ti trasforma un paese in un lago E tu basta che vai su internet per capire che cosa fanno i cinesi Dalla sera alla mattina senza chiedere permesso a nessuno Addirittura loro, eh? Mentre l'ipnosi chiede sempre il permesso, l'ipnosi etica eccetera E noterai come i cinesi, che sono come tante formichine Realizzano in pochi secondi ciò che la natura non realizza In pochi secondi, ma ci mette secoli Ecco, un po' l'ipnosi rispetto alle altre tecniche è la stessa cosa L'ipnosi realizza quel famoso miracolo della tua mente In tutti i campi che a te interessano Che sono quelli della salute, del benessere, della ricchezza Delle relazioni di coppie, familiari, sociali, eccetera, eccetera In un batter d'occhio Alla velocità della luce Che tutti credono facendo e soltanto facendo O andando presso un professionista dell'ipnosi Oppure imparando tecniche di auto-ipnosi Oppure seguendo certi corsi mirati ad hoc Naturalmente alcuni non hanno raggiunto certi risultati Perché lì ci sono diverse resistenze, no? Il dubbio, la paura, che cosa lo frena È lì perché il subconscio è come una cella d'api, no? Un alveare Bisogna capire cosa prendere E insistere a perseverare Perché prima o poi becchi il bug La cella d'api giusta E tu cambi radicalmente in positivo la tua vita Per cui l'ipnosi Dalle mie esperienze personali Perché io sono anche un esperto di reiki O reiki per alcuni Meditazione, yoga Chi più ne ha più ne metta Posso assicurarti che la tecnica più veloce Più veloce La velocità della luce Che poi è la mente umana Poi, no? Guidata dall'ipnosi Da quest'arte E questa scienza Che è l'ipnosi Che ti trasforma la vita Da così a così Va bene? Seguimi su tutti i social Visita il mio sito www.ipnosiassociati.com Metti mi piace sulla mia fanpage Ipnosi A un diproso del dottor Claudio Saracino Iscriviti e commenta Questo sito YouTube Benessere ipnosi soluzione Del dottor Claudio Saracino Fammi tutte le domande In privato, in pubblico Come stai facendo? Io ti risponderò gratuitamente Gratis, ok? Un bacio, un abbraccio Dal dottor Claudio Saracino